Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me e poi offre questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regine Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti i cosospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più il deserto ma popolato dai figli tuoi, perciò, sovrana, regina, a te mi affido, affinché guidimi ai passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e con mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la Divina Volontà, così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 27, 11 febbraio 1930. Come l'uomo fu creato per vivere alla familiare con Dio ed in casa sua, ed essendosi sottratto dalla sua volontà, per bontà di Dio gli fu data la legittima. La mia povera mente subisce il dolce incanto del fuggito sole dell'eterno Fiat ed ho quante belle scene commoventi svolge in me che se io le potessi dire come le vedo tutti subirebbero il dolce incanto ed in coro direbbero tutti vogliamo fare la divina volontà. Ma ahimè, sono sempre una piccola ignorantella ed appena balbettando so dire qualche cosa. Ma nel comprendere il gran bene di questo divino volere e come notiamo nelle seconde altissime di luce, di bellezza indicipile, di santità inarrivabile, pensavo tra me. Come è possibile che ignoriamo il gran bene che ci circonda? Come è possibile che non si conosce un tanto bene e mentre non lo diamo dentro lo ignoriamo? Ignoriamo che ci investe dentro e fuori, che ci dà la vita? E solo perché lo ignoriamo non godiamo i mirabili effetti di tutti i grandi beni che contiene un volere così santo. De, svelati o fiat onnipotente, la faccia della terra si cambierà. E poi perché nostro Signore Benedetto non si è compiesuto di manifestare fin dal principio della creazione le tante cose mirabili che vuol fare e dare alle creature questa santissima volontà e mentre la mia mente si perdeva, come era vita nel dolce incanto del volere divino, il mio amore, il mio amore, la mia vita, Gesù, il celeste, il maestro che affascina col suo bel dire sul suo stesso volere facendosi vedere mi ha detto. Mia piccola figlia del mio volere, la creatura non può vivere né l'anima né il corpo senza la mia divina volontà. E siccome è il suo primo atto di vita, perciò si trova nelle condizioni o di ricevere il suo atto di vita continuo da essa o di non poter avere esistenza. E siccome l'uomo fu creato che doveva vivere nell'opulenza dei beni di questa divina volontà, sua prediletta eredità, perciò lui fu creato che doveva vivere di noi in casa nostra con un figlio che vive con suo padre. Altrimenti, come poteva essere il nostro trastullo, la nostra gioia e la nostra felicità. se non dovera vivere vicino insieme nella nostra divina volontà. Un figlio lontano non può formare la gioia di suo padre, il suo sorriso, il suo scherzo, la sua familiare conversazione. da lontano non si può giocare né sorridere di felicità, anzi, la sua lontananza spezza l'amore e porta all'amarezza di non poter godere colui che si ama. Vedi dunque, l'uomo non fu creato, no, l'uomo fu creato per vivere alla familiare con noi, in casa nostra, nella nostra stessa volontà, per assicurarci le nostre gioie e felicità perenni. Ma l'uomo, il figlio nostro, mentre era felice in casa di suo padre, si ribellò ed uscita dalla sua casa paterna e col fare la sua volontà perdette il sorriso di suo padre, le sue pure pure gioie. ma siccome non poteva vivere senza il concorso della nostra divina volontà, gli facemmo da padre e gli temmo la legittima della nostra divina volontà, non più come vita che portava nel suo grembo per renderlo felice e santo, ma come concorrente per conservarlo in vita, non per felicitarlo come prima, ma per dargli le cose di stretta necessità a seconda di come si sarebbe comportato. Senza la mia volontà non ci può essere vita. Ecco perciò del mio Fiat divino si conosce poco perché è la sola sua legittima che le creature conoscono e molte volte questa legittima non viene neppure del tutto riconosciuta. perché chi vive di legittima non vive in casa di suo padre ma sta da lui lontano e molte volte si trova nelle condizioni di sciupare con atti indegni la stessa legittima ricevuta. Quindi non ti meravigliare se poco si conosce della mia divina volontà, se non si vive in essa, se non si sta in continuo contatto di ricevere la sua vita che è felicita, che è santifica e che stando le vicina apre i suoi segreti e si fa conoscere chi è che cosa può darle come sospira di tenere nel suo grembo la creatura per formare in lei la sua vita divina. Molto più perché l'uomo col fare la sua volontà si mise in condizione di serbo non di ereditiera e il serbo non ha diritto alla eredità del suo padrone ma alla misera mercede per vivere stentatamente la vita. Perciò figlia mia si può dire che conti ho aperto le porte per farti entrare a vivere in casa nostra. Nella nostra divina volontà tenendoti con noi ti abbiamo tanto manifestato del nostro volere non come legittima ma come nostra fortunata e l'editiera dopo di ciò ho soggiunto figlia mia molto più che quel poco che sia scritto in tutta la storia del mondo della mia volontà avendone conosciuta solo la legittima hanno scritto di essa ciò che hanno conosciuto del mio figlio dopo la colpa in quali rapporti sta con le creature adonta che l'offendono e non vivono in casa nostra invece quali rapporti passavano tra il mio fiat e l'adamo innocente prima di peccare nulla hanno scritto e come potevano scrivere se nessuno ha vissuto nella mia divina volontà come in casa sua come potevano conoscere i suoi segreti ed il grande prodigio che può fare la vita operante di un volere divino nella creatura perciò perciò potevano e possano dire del mio fiat divino che dispone tutto che comanda che concorre ma dire del mio volere divino come opera in se stesso in casa sua la potenza della sua immensità che in un istante fa tutto coinvolge tutto come in se stesso e così nella creatura questa è scienza che finora la creatura ignorava non poteva essere scritta se non dietro manifestazione del mio fiat divino e a chi chiamavo a vivere in casa nostra come figlia nostra vicina dentro il mio volere non lontano perché potendoci trastullare con lei la mettevamo a parte dei nostri segreti più intimi e se avessimo voluto manifestare ciò che riguarda la nostra volontà in rapporto alla creatura e la creatura non gli desse in essa non ci avrebbe capito sarebbe stato per lei come un dialetto estraneo e inintellegibile bene amici il brano che abbiamo ascoltato è il penultimo del volume 27 anch'esso volge al termine e ci avviciniamo verso lentamente ma verso la cognata meta del riuscire a meditare tutti e 36 i volumi del libro di cielo speriamo con l'aiuto del Signore di farcela io partirei da una frase di Gesù molto significativa senza la mia volontà divine non ci può essere vita sotto nessun punto di vista e a nessun livello si potrebbe aggiungere ecco qui di nuovo Gesù oggi fondamentalmente tra le righe spiega in maniera sempre più egregia oserei dire se è possibile esprimersi in questo modo che la divina volontà piacqua piaccia o non piaccia sia creduto o non si è creduto sia conosciuto o non si è conosciuto sia saputo o non si è saputo sia apprezzato o non si è apprezzato sia ricambiato o non si è ricambiato è il fondamento della conservazione in vita di tutti gli esseri per capire un pochino questa meditazione penso che più o meno tutti però io mi permetterei di dare una spiegazione dovrebbero sapere che cos'è la legittima la legittima la quota di legittima si dice più tecnicamente in termini forensi ecco è la parte di patrimonio familiare che è indisponibile e che è il 50% almeno era quando studiavo io cioè un papà o una mamma nei confronti del conoggio dei figli non possono privarli del 50% dei beni che hanno per il resto possono darle intestamento a chi vogliono ma una quota dei beni familiari appartiene alla famiglia chiaramente la legittima vale per il conoggio per i figli non per i parenti di grado differente per cui se una persona non ha moglie o figli può disporre tranquillamente dell'intero patrimonio fermo restando che se non lo fa la successione legittima va ai familiari più stretti in ordine di grado di strettezza e di parentela mi si perdoni insomma questo riferimento al diritto successorio però purtroppo Gesù parla di legittima perché usa legittima in questo senso allora qual è il discorso che fa la legittima chi la prende la prende un figlio quando è morto il padre o la madre quindi l'uomo che succede esce dalla divina volontà quindi sarebbe come se ammazzasse il padre o la madre un'altra immagine è quella del figlio del prodigo se ne va non vuole più stare con lui e allora in un atto di misericordia il padre o la madre anziché abbandonarlo non l'abbandona del tutto prendete questa quota del legittima cioè quello che è indispensabile per sopravvivere per non cadere nel nulla e questo è quello che ha fatto il Signore e nel passaggio che precede questa frase senza la mia volontà divina non ci può essere vita che è il passaggio fondamentale di questo scritto Gesù spiega molto bene l'uomo non poteva vivere senza il concorso della divina volontà e quindi gli abbiamo dato la legittima della nostra divina volontà attenzione però ma non più come vita quante volte ci siamo detti no che vivere nella divina volontà significa che la divina volontà diviene vita in te questo lo capisce soltanto che comincia a viverlo amici miei quindi non ci sono tanti termini per spiegarlo e lo capisce dagli effetti che si sperimentano e quali sono non più come vita che lo portava nel suo crembo per renderlo felice e santo sei felice e santo eh ma felice attenzione qui quando si dice felici cioè vuol dire che la felicità che uno sprizza felicità da tutti i pori col covid col covid con la guerra con la guerra con tutto quell'altro che succederà se succederà con tutto quell'altro che succederà se succederà non te la tocca nessuno questa cosa qui perché non dipende da fattori esterni all'esterno può succedere qualunque cosa ti possono privare ti possono ti possono crocifiggere ti possono perseguitare ti possono privare delle libertà possono fare quello che vogliono ma dentro c'è una sorgente dentro non te la possono cioè guardate che bella che questa cosa è ci possono ci potrebbero togliere tutto gli uomini ci potrebbero togliere qualunque cosa potrebbe succedere qualunque e poi poi te la possono togliere la gioia interiore la felicità interiore la vita della divina volontà nell'anima capiamo perché in alcuni passaggi che gli stolti travisano oppure non capiscono Gesù dice certe cose no dice la divina volontà è più grande della stessa comunione sacramentale più grande della comunione sacramentale ma la comunione sacramentale è Gesù in persona dice Gesù ma potrebbe succedere che tu Gesù in persona non lo puoi ricevere più questo potrebbe succedere per tante motivazioni c'è gente che per motivi di coscienza è rimasta a lunga senza ricevere Gesù perché non se l'è sentita di andare contro la propria coscienza e di ricevere Gesù in un modo che non gli sembrava consono alla alla sua divinità e alla sua maestà e io ritengo che tutti debbano essere rispettati ma certamente chi ha fatto una scelta di questo genere per coerenza interiore con quello che dice per il sacrificio che ha fatto se possibile vada rispettato il doppio anche se le scelte possono essere molte però insomma ma a prescindere da questi problemi non c'è più il parroco vicino succede il finimondo succede veramente una guerra che distrugge tutto e tu momentaneamente ti trovi privo dell'eucaristia e allora che fai? ti spari? che succede? che fai? ci sono stati i santi preti ci pensi a Don Dorinto Ruotolo a Don Attilio Negrisolo lo stesso padre Pio che a causa di persecuzioni scatenate dal diavolo e che hanno purtroppo fatto breccia nel cuore di certi membri delle gerarchie sono stati per anni senza poter celebrare la messa cioè per quanto mi riguarda questi tre con nominato sono molto in alto nella santità sacerdotale quindi non erano pinco panco uno sta proprio su un altro pianeta ma pure gli altri due che erano suoi figli spirituali insomma è che che ci scherzavano e come hanno fatto a sopravvivere questi? per un prete se gli togli la possibilità di celebrare la messa lo ammazzi proprio cioè gli dai non credo che per un prete degno di questo nome quando uno dice sai non le dite la volontà signore ti offro qualunque cosa l'offerta estrema è questa perché per un prete stare senza celebrare la messa è proprio la morte assoluta si è degno di questo nome ma ma Dio non voglia dovesse succedere una cosa di questo genere per cause ovviamente indipendenti dalla volontà della persona tu c'è la divina volontà se la divina volontà ti chiedo che sto tu l'abbracci con gioia e ne continui a vivere e godere dentro il tuo cuore senza che pure un dolore così grande ti tolga la felicità la santità la gioia e la pace questo è allora quando l'uomo è uscito la divina volontà gli ha dato la legittima però non dice Gesù per portargli la sua vita come prima e quindi per renderlo felice e santo ma come concorrente per conservarlo in vita che c'è un abisso cioè per fatte sopravvive sopravvivere campare come si dice campare non è una grande cosa tirare a campare diciamo così quindi per conservarlo in vita non per felicitarlo come prima dargli le cose di stretta necessità a seconda di come si sarebbe comportato perché poi peggio di comporti e più le cose di stretta necessità come dire scendono di 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 livello di grado di valore fino a poterti ridurre come dice Gesù in certi passaggi a un pezzenta a uno straccione un miserabile a uno che fa che fa una vita semi indegna di essere vissuta ma quanti diamoci un'occhiata intorno e questo da chi dipende ma questo da chi dipende da chi dipende da Dio forse l'uomo il figlio nostro mentre era felice in casa di suo padre si ribellò ed uscì dalla sua casa uscì dalla sua casa l'uomo fu creato che doveva vivere nell'opulenza dei beni di questa divina volontà ancora e invece quando va bene diventa come dire uno che campa di legittima cioè bah quando va peggio diventa un servo che nemmeno c'ha più la legittima ma la misera mercede per vivere stentatamente la vita quanti campano così quanti quanti altri elementi se abbiamo ancora un pochino di tempo da tenere in considerazione la creatura che non può vivere senza la divina volontà avrebbe dovuto viverne della sua vita e che cos'è la sua vita ci sono dei passaggi veramente che lasciano come sempre santamente santamente sconvolti altamente edificati no dice mio figlio doveva vivere dentro casa mia come poteva essere il nostro trastullo la nostra gioia e la nostra felicità se non doveva vivere vicino insieme nella nostra divina volontà io penso che dobbiamo pensarci a queste cose cioè ci rendiamo conto che quello che Dio sta dicendo è che un essere umano io e te cioè non siamo troppo generici Luisa era un essere umano Gesù sta dicendo guarda guarda Luisa che te l'ho detto a te queste cose prima non sono mai stelle dette a nessuno quali rapporti passavano tra l'Adamo innocente e il Fiat prima di peccare non ne ha scritto mai nessuno perché perché non ne può scrivere nessuno se non ne abbia la minima cognizione e anche in parte non l'abbia vissuto tu non puoi scrivere di una cosa che non conosci o di una cosa che non sai perché non l'hai vissuta non puoi scrivere né puoi parlarne non puoi ecco perché non ha scritto Luisa perché Luisa è stata scelta come prima creatura umana eccettuati Gesù e la Madonna figlia di Adamo a entrare in questo regno se no non avrebbe scritto manco mezza manco mezza virgola è incredibile cioè incredibile non si può dire incredibile mi viene sempre dire questa questa espressione perché ci sono delle cose che sono sbalorditive no però non si può dire incredibile perché l'ha detto nostro Signore quindi dobbiamo crederci però è come dire se non è incredibile è come dire è sconvolgente cioè io tu possiamo essere la gioia la felicità il trastullo di Dio Dio che si compiace a questi livelli della sua creatura in cui vede vivente la sua divina volontà come principio di vita e che tiene in casa sua vicino a sé attenzione un figlio lontano dice non può formare la gioia di suo padre il suo sorriso il suo scherzo la gioia cioè tu e io possiamo essere la gioia del padre farlo sorridere scherzare con lui diverse volte Gesù negli scritti usa questa espressione è chiaro che lo scherzare con lui cioè fa parte di questa vita ma fa parte di questa vita Dio scherza lo dice Gesù Dio scherza scherza con i suoi amatissimi figli con quelli che gli hanno spalancato la porta e che gli consentono di dargli il dono dei doni e di vedere qualche figlio finalmente almeno qualcuno felice come dovrebbe essere aggiunge il signore in questo contesto da lontano non si può giocare insieme né sorridere di felicità quando due persone stanno lontano come fanno a giocare insieme o a sorridere di felicità noi oggi abbiamo tutte quante queste realtà virtuali insomma quindi questi potenti strumenti di comunicazione che per carità io dovrei essere il primo a stare zitto perché sono stato forse tra i primi non dico però insomma è dal 2009 dal 2008 insomma che che sto utilizzando questi strumenti quindi sono quasi 15 anni mi ricordo insomma a quei tempi non è che fossero così diffusi anche tra i miei confratelli mi ricordo la sera andavo a vedere le visualizzazioni di un video vedevi 30 visualizzazioni e eri entusiasta 30 persone hanno visto il video hanno sentito quello che ho detto dico mamma mia ecco però questa realtà che certamente è utile dobbiamo vivere nel contesto in cui stiamo cercare di utilizzarla evidentemente per il bene anche perché non si può lasciare il monopolio e l'uso incondizionato a chi usa queste cose per il male quindi dobbiamo utilizzare la santa scaltrezza evangelica però è un'altra cosa quando una persona sta in diretta nessuno si scandalizzi se a me uno mi dicesse da domani si torna come ai tempi del santo curato d'Ars il santo curato d'Ars faceva tutto in parrocchia e se volevi sentite la predica del santo curato d'Ars ti mettevi la strada sotto le gambe eppure a piedi ci andavamo e te facevi mezza Francia per andare a sentire la lezione del catechismo il santo curato d'Ars e confessati con lui o parlare con lui io lo farei subito ti ho detto lo dico proprio con perché certamente la realtà reale quindi il contatto reale la bellezza di poter parlare de visu con una persona il fatto che per esempio la chiesa nella sua sapienza con questi strumenti si possono fare tante cose ma quante volte la gente mi ha detto posso confessarmi con internet o con il telefono non si può fare né tanto meno devo fare la comunione insomma per internet o per il telefono quindi Dio ha nella sua sapienza anche strutturato la vita della chiesa in modo tale che come dire che prevede questa fraterna familiarità per questo che ci chiamiamo fratelli e sorelle che ha un pallido riflesso un lontano riflesso della della fraternità divina cioè il contatto personale è qualcosa che non può essere che non può essere sostituito no? perché comporta delle dimensioni che non si possono vivere senza questa realtà e Gesù lo afferma da lontano non si può giocare insieme né sorridere di felicità se un figlio mi si allontana facendolo solo volontà diventiamo distanti la sola lontananza spezza l'amore porta l'amarezza di non poter godere colui che si ama pensiamo quando vediamo qualcuno che amiamo siamo felicissimi fino a quando ci possiamo stare e poi purtroppo se è lontano arriva sempre poi la partenza le partenze gli addi sono sempre grandi dolori di questa vita terrena perché per quanto sta in noi non vorremmo mai staccarci da ciò che ci allieta che ci vetifica e ci fa stare bene no? non sempre questo è possibile anzi purtroppo ben dirato è possibile fino a quando siamo in questa valle di lacrime e poi un bel giorno non sarà più così no? attendiamolo con 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 gioia quindi il nostro Signore questo vuole vuole riempirti di gioia e godere di te sorriderti e farti conoscere il suo sorriso giocare scherzare giocare Dio gioca ma certo che gioca certo che gioca qualcuno si scandalizza ma ti pare che Dio non gioca? scusa ma se i giochi per noi esseri umani sono comunque delle cose belle ma a noi chi ci ha fatto? a noi ci ha fatto nostro Signore e quindi certo che adesso siamo tutti quanti segnati dal peccato originale per cui molti giochi sono giochi proibiti c'è pure la canzoncina che si chiama giochi proibiti oppure non sappiamo conservare la misura siamo intemperanti quindi i bambini i bambini giocano e Gesù ha detto se non diventerete come bambini non diventerete nel Regno dei Cieli Santa Teresa di Gesù bambino nella sua piccola via diceva Gesù io voglio essere il tuo giocattolo e attenzione questa sembra una una frasetta di una come dire di una ragazzotta insomma verginella devota ma questa questa frase c'ha c'ha una profondità assolutamente impressionante il giocattolo di Gesù è come dire è un è un prequel della divina volontà che tra l'altro ecco Santa Teresina è contemporanea in parte di Luisa anzi senza neanche tanto in parte che lei è molto è morta molto giovane ma è quasi coetanea rispetto a Luisa quindi anche da anche dalle parti francesi si vede che in contemporanea Gesù stava cominciando a a mandare qualche input il giocattolo di Gesù che significa se non tu vuoi fare di me qualunque cosa un giocattolo dice un bambino che c'è fa col giocattolo lo pia lo sbatacchia se gioca se gli va ci gioca se non lo sbatte dentro l'armadio non se lo vede proprio insomma se Gesù volesse sbattermi dentro l'armadio non mi vuole vedere più ah fantastico basta che questa sia la sua volontà non mi importa niente siamo capaci noi ad avere una disposizione di questo genere quindi il giocattolo di Gesù è una grande frase ma se uno dal giocattolo a Gesù vuol dire che Gesù si gioca con i giocattoli è tanta è tanta roba questa la possibilità di questa vita quindi dire del mio volere conclude Gesù come opera in se stesso in casa sua la potenza della sua immensità che in un istante fa tutto coinvolge tutto questa scienza che finora la creatura ignorava e non poteva essere scritta se non dietro manifestazione del mio fiato divino quindi che volesse far conoscere queste cose ma anche ma anche a chi chiamavo a vivere in casa nostra come figlia nostra vicina e potendoci trastullare con lei la mettevamo a parte dei nostri segreti più intimi sarebbe interessante andare a fare una ricerca sul testo unificato dei 36 volumi sulla radice trastull quindi in modo tale che si possa cercare trastullo trastulli trastrullarsi trastullare è un termine molto utilizzato da da Gesù il trastullo e il trastullare uno dei termini chiave della vita nella divina volontà ma ci sono dei termini ricorrenti dei termini tipici di questo mondo il trastullo è uno di questi e chi di noi non si allieterebbe di trastullarsi in continuazione o di fare il trastullo di Dio perché questo sta dicendo Gesù domande retoriche quindi bene grazie un immenso grazie anche oggi Gesù per tutto quello che ci hai donato oggi è la festa di una nostra grande connazionale che lei è morta a 33 anni grandissima Vergine consacrata destinataria anche lei di immensissime rivelazioni una bellissima figura la nostra grande e santa patrona a cui affidiamo le sorti della nostra povera Italia poverissima Italia ecco dentro tante tristi vicissitudini che all'esterno ci circondano nella tua divina bontà hai disposto che questo tempo fosse per noi allietato con tutte quante queste cose parlo per me e per tutti coloro che hanno avuto questa grandissima sorte ecco di ricevere queste informazioni e certamente anche poi la grazia di accoglierle perché sono molti che ricevono i doni ma pochi quelli che li accolgono e noi ti ringraziamo immensamente che in mezzo a tanto grigiore hai aperto non squarci di luce ma fiumi di luce soli di luce e che ci consentono davvero di poter vivere e affrontare tante situazioni con una energia con una forza che sarebbero stati del tutto inimmaginabili che anche oggi possiamo crescere un pochino ulteriormente in questa splendida vita Signore Gesù Nella Divina Volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Ti benedico per aiutarti Ti benedico per difenderti Ti benedico per perdonarti Ti benedico per liberarti da ogni male Ti benedico per consolarti Ti benedico per farti santo Ti benedico dunque nella Divina Volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Fiat Ave Maria